ciao amici e bentornati su survival hacking inside oggi vedremo un lettore barcode un po particolare ma lo vedremo subito dopo la sigla come vi dicevo ecco qua questo è un lettore di barcode un po particolare nel senso che magari voi siete abituati a vedere quelli a forma di pistola che spara quello che spara flashate il codice no mentre invece questo è un modello che forse una volta veniva utilizzato non l'ho mai visto utilizzarsi da nessuna parte però probabilmente veniva utilizzato in qualche piccolo supermercato o qualcosa del genere ve l'ha regalato un amico che l'ha ritrovato in giro mentre sbantellava qualcosa e c'è scritto rotto posto 12 c'è qui l'adesivo attaccato che poi vedremo di eliminare e è un data logic è un marchio tra i più importanti nell'ambito dei lettori barcode e questo qua ha un suo funzionamento particolare ha una finestra molto ampia e dentro c'è tutta una serie di specchi per il quale genera una specie di matrice di raggi laser che cercano di colpire a caso un barcode che gli viene posto davanti in modo tale che semplicemente appoggiandolo sopra sicuramente uno di questi raggi che viene generato andrà a colpire il codice quindi si facilita la lettura si appoggia così e questo genera tutti i suoi fasci a matrice in modo da poter cercare di scancelare il codice nel modo più veloce possibile allora cominciamo a vedere un po allora è usb lo attacchiamo all'usb per vedere che cosa fa attaccato all'alimentatore usb non fa assolutamente nulla completamente morto e spento quindi vediamo se collegandoli invece all'usb di un computer fa qualcosa di diverso ecco ha fatto un suono e si sente un rumore dentro di come un motore che gira e vedo tutte le specie di raggi laser insomma vediamo se in effetti fa qualche ecco come vi dicevo adesso non so se si vede però vedete genera tutti questi raggi laser in tutte queste direzioni sia in diagonale che in verticale che in orizzontale in modo tale che qualsiasi codice a barre dovesse passare di fronte viene rilevato e difatti ha fatto bip quando il raggio laser ha incrociato quindi magari funziona anche evidentemente avrà qualche altro problema vedete che quando il codice a barre colpisce uno dei raggi laser di qualsiasi direzione viene riconosciuto a meno lui fa bip c'è un del dros qua che diventa verde quando viene riconosciuto comunque vedete che è curioso questo qua quindi genera questa matrice adesso con la telecamera io la copro così magari la vedete meglio comunque sia questo prodotto che poi credo sia stato veramente molto costoso ed era destinato appunto ai negozi o piccoli supermercati o onestamente devo dire non li ho mai visti in giro però sicuramente è un oggettino che vedo più da negozio ecco che da utilizzarsi per delle cose più semplici in ogni caso oggi ho visto su ebay il valore medio di questi oggetti qua viaggia sui 25 euro per cui probabilmente esistono tecnologie molto molto migliori rispetto a questa e allora andiamo un po' a curiosare dentro come si presenta allora innanzitutto vediamo se identifichiamo qualche vite magari nascosta sotto questa etichetta perché non si vede neanche una vite e continua a non vedersene nemmeno una forse sotto questi neanche quindi è tutto incastro e sarà tutto incastro per cui adesso andiamo di forza bruta con i nostri ben cacciaviti a taglio si muove andiamo con qualcuno un po' più grande ok questo viene via così e adesso si vedono delle viti quindi cominciamo a svitare bisogna fare attenzione è un laser in classe 2 è curioso che questo messaggio di pericolo sia nascosto da questa mascherina così uno non lo sa deve smontarlo per capire che dentro c'è un laser vabbè noi lo sapevamo già ok e abbiamo tolto la parte frontale e quindi si comincia a vedere all'interno qua vediamo quell'affare che gira proviamo ad attaccarlo e vediamolo adesso il raggio laser esce da qua vedete qua esce il raggio laser che viene riflesso su questo specchio rotante che poi a sua volta lo fa riflettere su questi altri specchi qua e questo fa sì che generi quella matrice che abbiamo visto prima e questo meccanismo può essere utile per farci qualcosina di curioso comunque andiamo avanti a smontarlo ecco più facile del previsto tutto il blocco viene via questo è semplicemente il connettore qua sopra c'è un pulsantone guardate per essere sicuri che che venga premuto in qualsiasi angolo lo premiate sto pulsantone ne hanno messi dentro in parallelo 5 6 7 8 9 10 15 pulsantini che così in qualsiasi modo voi lo schiacciate lui si schiaccia e qua abbiamo questo connettore che è fissato qua diamolo a togliere e bisogna sganciare questo bisogna infilarsi qua dentro con qualcosa per esempio potremmo usare questo eccolo qua perché c'era dentro l'rj 14 con la sua lamella e questo buco serve per schiacciare sta lamella e questo è il cavo usb che finisce con questa connessione rj personalizzata presumo quindi questo circuitella adesso verrà via insomma ha fatto crack più che venire via castrata da dentro ok questo è tutto il contenitore di plastica adesso lo teniamo a parte quindi qui abbiamo la parte di ingresso per prendere l'alimentazione portare fuori segnali usb poi c'è questo pulsantino pulsantone con qualche led il buzzer quindi questo come tra i suoni vari di segnalazione e con questo unico cavettino poi ci si collega qua questo qua è uno dei circuiti qua invece vediamo un po qua è tutto un monoblocco due schede attaccate però c'è anche un po di roba smontiamo questo flat a ok si intravedo che adesso ho capito mi mancava un pezzo adesso l'ho visto perché il raggio laser ok è quello che serve per generare la luce trasmittente ma poi da qualche parte ci deve essere un sensore che riceve e decodifica poi il codice e adesso l'ho trovato dov'è il sensore il sensore di saldato si fa fatica a vedere comunque è quello saldato qua con queste saldature che si infila dentro in questa zona qua dove c'è una lente ma si vede tutto molto molto poco lo vedo pochissimo io qua questo invece è il laser trasmittente che andiamo a svitare è un bel prodotto ingegnerizzato bene pensate che la data logic è un'azienda italiana di bologna esperta in questo settore qua c'è un vetro a specchio e qua c'è ecco qua quello che vi volevo dire questa lente che vedete qui davanti è quella che poi questo il laser viene riflesso su questa su questo motore su questa lente motorizzata che poi fa tutti i suoi raggi vari in ricezione quindi il riflesso di questo laser rientra e rientra su questo specchio che avete visto qua che è proprio vicino all'emissione del laser cioè il laser lo emette poi viene riflesso indietro e picchia contro questo specchio che poi lo butta dentro questa lente dove c'è qua dentro in questa parte schermata il detector che poi rileva queste variazioni nel senso che quando un laser va contro un foglio bianco viene riflesso quasi il 100 per cento del raggio tra le indietro quasi tutto quando invece si prende la barra del barcode che è nera al posto che bianca il nero non riflette più niente e quindi quel sensore non riceve quasi nulla indietro e in questo modo quando il raggio laser fa la scansione di questo barcode il bianco viene riflesso il nero non viene riflesso bianco nero bianco nero bianco nero bianco nero bianco nero bianco nero tutti questi questi segnali che hanno un'ampiezza di una larghezza a dipendenza di quanto è largo la barra del barcode perché quando la barra sarà molto più spessa ci sarà un tempo maggiore di durata di questo impulso tutti questi impulsi insomma poi vengono digitalizzati e viene fuori un treno di impulsi con delle ampiezze variabili e base alla barrettina del barcode e questo barcode poi questo stream di dati poi viene decodificato da una parte intelligente che adesso andremo a vedere e decodificano il contenuto diciamo che ci sono tutte delle regole per il quale il numero uno è una barretta piccola più una barretta grande il numero due è una barretta grande più una barretta grande il numero tre è grande piccola grande che ne so ci sono tutta una serie di combinazioni e base a quelle si fa la decodifica ovviamente in tutto questo c'è anche una correzione d'errore ci sono tutta una serie di marker che fanno in modo che la lettura sia abbastanza garantita insomma e questo è il laserino che è avvitato dentro questo affare qua svitiamo pure lui e andiamo a vedere il piccolo laser e ovviamente è un diodo laser classico sarà un cilindretto metallico eccolo qua è dentro un coso di alluminio per dissiparlo e questa è tutta l'elettronica ma questa è la parte meccanica qui dietro c'è il motorino poi andiamo a svuotare anche questo però vediamo la parte elettronica perché voi non vi immaginereste mai che cosa c'è dentro il lettore barcode che non è così semplice sembra semplice decodificare barcode ma in realtà adesso togliamo un po' di etichette che ci sono così vediamo un po' meglio la parte elettronica qui c'è tutta la parte analogica quindi il ricevitore infrarosso con tutta la sua parte di dd ah ma c'è un connettore si può togliere aspetta ah ma è saldata qua per cui bisogna accedere saldatore per dissaldare un paio di cose in modo tale che possiamo così togliere le schede si hanno messo un paio di gocci di stagno per metterle le masse diciamo assieme ci vuole la calza bene così li abbiamo separati intanto cominciamo a vedere velocemente dicevo la parte analogica qua di dove c'è il ricevitore poi c'è un altro fotosensore che servirà per regolare alcuni parametri in base alla luminosità di dove viene posizionato questo perché il raggio laser avrà sì una riflessione che farà ritornare indietro parte di quello che stai emettendo ma il ricevitore qua sarà sicuramente molto suscettibile alle condizioni ambientali quindi se c'è molta luce o poca luce bisognerà regolare tutta una serie di parametri quindi questo sensore farà quel tipo di analisi e quindi aiuterà a fare in modo che la soglia di questo sensore ricevente che sta all'interno di questo schermo metallico che non è facile da aprire da quello che vedo e quindi non lo apriremo però non mi aspetto di trovarci nulla di che se non un fotosensore molto simile a questo forse un pochino più grandino ma molto simile ecco qua abbiamo tanti circuiti integrati che fanno tante cose non saranno solo analogico già tutta la parte di alimentazione parte analogica e poi verrà già in parte squadrato e convertito in digitale e quindi tutto quello che verrà ricevuto qua verrà ripulito quindi molto bene e uscirà uno stream di dati digitale ben limpido e chiaro anche qua qualche piccolo circuitello mentre stavamo dicendo che sembra facile decodificare i barcode ma invece non è così semplice e parte che esistono almeno una trentina di tipi diversi di barcode che hanno tutti dei formati che a vista sembrano uguali ma che invece hanno una codifica differente e quindi il significato delle barrette larghe strette della distanza fra le barrette tutto ha tutto un significato diverso e base a quel tipo di standard allora bisognerà applicare le regole di quello standard per farla decodifica e di questi lettori normalmente riescono a leggere tutti gli standard possibili e spesso anche tutti contemporaneamente quindi è in grado di decodificare quale standard stia leggendo e di fornirvi sempre il dato chiaro una volta che gli passate un barcode davanti senza dover fare chissà che cosa questo serve anche per applicare dei filtri speciali per cui se voi impostate questo lettore che sia in grado solo di leggere formato code 128 per esempio e nessun altro tipo di codice se gli passa davanti un barcode di altro formato lui lo riconosce ma voi gli avete detto che non vi interessa allora non vi fornirà nessuna informazione e quindi leggerà solo codici di un certo tipo e in questo modo è possibile diminuire sempre di più le false letture comunque guardate ragazzi questa è la parte di logica di microcontrollore che fa tutto il lavoro sporco e qui abbiamo un dsp della texas quindi un bel fior di processore con la sua memoria flash abbiamo un altera cyclone un fpga e che conseguenza anche una bella importante parte di logica programmabile alcuni chip vari vabbè questi sembrano buffer niente di che un po di alimentazione e ancora tanta bella roba su questo lato adesso io non vedo la sigla di questi integrati però insomma come vedete la parte di decodifica questa flash memory e tutti gli altri integrati adesso non so bene e queste sono tutte componentistiche insomma che serve per far funzionare tutto come vedete non è per niente semplice riuscire a decodificare correttamente i barcode e magari voi pensate che sia proprio uno scherzo sì alcuni lettori a pistola di ultime generazioni sono stati ingegnerizzati moltissimo e hanno fatto un single chip dedicato quindi dentro ci trovata una schedina molto piccola con solo un circuito integrato e funziona con i codici più standard è molto economica e va benissimo questa invece doveva essere un prodotto che doveva fornire delle garanzie notevoli probabilmente appunto perché veniva utilizzato nei punti vendita e se non funzionano bene i barcode e la punto vendita diciamo che il negoziante o la catena dei supermercati dice ragazzi funziona troppo male noi non riusciamo perdiamo un sacco di tempo a leggere i barcode siamo sempre lì fermi cambiamoli mettiamo qualcosa di più e quindi si investe parecchio su questi lettori che costano moltissimo questo qua sicuramente all'epoca che fu quando era al suo momento magari una decina d'anni fa e sicuramente costava un migliaio di euro un lettore di questo genere e mentre invece oggi praticamente non vale più niente perché sicuramente esistono tecnologie più avanzate magari fatte con un ccd al posto che con laser eccetera e qua andiamo a smontare il nostro motorino che è un semplice motorino con uno specchio fatto in un modo speciale vedete un po una sorta di tronco di piramide questo motorino gira e serve appunto per generare molti fasci in maniera diciamo meccanica meccanico ottica qui c'è una lente incastrata qua dentro vediamo se riusciamo a tirarla fuori sì eccola qua questa è la lente che convoglia ciò che viene ricevuto una volta che il laser viene il suo raggio che viene poi riflesso alla fine viene convogliato da questa lente che viene poi appunto portato tutto dentro questo piccolo buchino dove c'è il sensore ricevente è una lente di plastica però una bella lente carina e qua niente ci sono tutta una serie di specchi installati qua sopra che sono incollati non ci possiamo fare più di tanto e ci teniamo questo piccolo vano c'è da capire si può utilizzare sta meccanica per farci qualcosa di interessante tanto noi la mettiamo così cominciamo a disporre la nostra parte elettronica in modo da poterla vedere poi tutta la sua completezza ed ecco qua tutto il nostro lettore ben diciamo disposto per vedere bene insomma tutte le sue parti e devo dire che l'oggetto che è ingegnerizzato molto bene abbiamo tanti particolari in plastica abbiamo un circuito elettronico niente male e devo dire che insomma il suo lavoro nella sua vita lo avrà fatto si sarà ripagato speriamo però ammiro la sua conformazione e la sua ingegnerizzazione che ricordo sempre essere appunto la data logica un'azienda italiana e quindi insomma fa anche piacere vedere che anche queste cose insomma diciamo la nostra bene dai che dirvi ragazzi interessante vedere anche questa tecnologia che magari di solito non si vede propriamente perché è difficile venire in possesso di dispositivi che sono utilizzati in certi settori molto particolari no la pistola barcode si trova ovunque un lettore di questo tipo si fa un po scomincia essere un po più problematico anche se ripeto oggi se andate a cercare sui beni trovate quanti ne volete ha delle cifre ridicole però lo vediamo oggi ed è un oggetto di probabilmente una decina d'anni fa però comunque oggi visto oggi si difende comunque in maniera abbastanza importante insomma devo dire che non sembra un oggetto di dieci anni fa tecnologicamente però insomma il tempo va avanti la tecnologia cresce sempre di più e questi prodotti a un certo punto invecchiano e vengono smaltiti vengono eliminati diventano praticamente non più utilizzati permesso che questo probabilmente aveva qualche problema elettronico che adesso noi non abbiamo verificato senso che sembrava funzionare perché il raggio laser andava però prevede magari non leggeva bene aveva dei problemi dava dei falsi delle false letture insomma ha creato un problema e l'hanno eliminato ed è arrivato qua bene ragazzi dai direi che per questo video è tutto ricordate di venire a trovare su patreon e su instagram continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.